Il bilancio sociale del Comune di Imperia, dibattuto durante l'ultimo Consiglio Comunale, sarà al centro domani di una puntata di microfono aperto in onda su Imperia TV alle ore 21. A discuterne saranno i consiglieri Giuseppe Fossati e Roberto Saluzzo. Vediamo. Fossati, tanta discussione e polemiche per questo bilancio sociale di metamandato dell'amministrazione comunale di Imperia, ma che cosa c'è che non va? Perché non vi piace? Non ci piace perché è un'operazione inutile, costosa e scorretta. Inutile perché non serve a un bilancio sociale per capire come ha operato questa amministrazione. I cittadini escono di casa, fanno un giro per la città e vedono in che condizioni è la città. Se è pulita, se è sporca, se è manutenuta o non è manutenuta, in che condizioni è alverne, in che condizioni sono i servizi. Come la viabilità e quant'altro, le opere pubbliche, chi più ne ha più ne mette. Quindi non serve fare un libro che dice che siamo a Disneyland, i cittadini escono e vedono come una città. Costosa perché è costata 20 mila euro ed è vergognoso in questo contesto spendere 20 mila euro per un'operazione di questo tipo. E scorretta perché è piena di errori, di inesattezze e si attribuiscono all'amministrazione dei meriti che francamente non ha. Consigliere Saluzzo, ma allora c'era proprio bisogno di fare questo bilancio sociale, di spendere 20 mila euro proprio adesso? A giudizio sicuramente del gruppo che io qui rappresento, che è l'imperia di tutti, era indispensabile perché è l'unico strumento che garantisce la trasparenza di quello che viene fatto all'interno del palazzo. Secondo noi è lo strumento per rendere conto ai cittadini di quello che viene fatto e proprio in merito a quello che diceva Pocanzi Fossati è la spiegazione di perché ci sono le buche, perché c'è la spazzatura in giro e quindi vengono motivate le condizioni della città. Bene, di questo bilancio sociale pro e contro del Comune di Imperia, cercando di capire innanzitutto di che cosa si tratta e di cosa stiamo parlando, ce ne occuperemo nella puntata di microfono aperto in onda venerdì alle ore 21 su Imperia TV. Il sindaco di Imperia Carlo Capacci ha firmato l'ordinanza relativa al periodo annuale e alla durata giornaliera dell'attivazione degli impianti termici per il 2017-2018. Capacci autorizza l'accensione da oggi negli edifici pubblici e privati fino a un massimo di 4 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata. La Liguria è diventata fanalino di coda per la produzione di rifiuti, un dato che per certi versi potrebbe essere positivo se non si trattasse di un grave segno di crisi. Il servizio. Un calo del 3,1% nella produzione dei rifiuti porta la Liguria a essere la regione fanalino di coda in questo settore, un dato che potrebbe essere letto per certi versi anche in modo positivo se non fosse che si tratta di un inesorabile segnale di grave crisi legato alla diminuzione dei consumi. A rivelarlo è la diciannovesima edizione del rapporto rifiuti urbani dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che mostra come nel complesso in Italia la produzione nazionale di rifiuti urbani sia invece tornata a crescere nel 2016 dopo cinque anni di progressiva riduzione. In totale le tonnellate di rifiuti sono 30,1 milioni con un aumento rispetto al 2015 del 2%, pari a circa 590 mila tonnellate, in contotendenza rispetto alla progressiva diminuzione registrata invece nel quinquennio 2011-2015. Il report dell'anno scorso registrava una produzione di rifiuti in Liguria pari a 872.416 tonnellate per il 2015. Nel 2016 il dato è consistente, si è scesi a 845.407 tonnellate. E le percentuali di raccolta differenziate, purtroppo ancora bassa, non bastano a giustificare il dato, che purtroppo si spiega appunto meglio con la contrazione dei consumi dovuta alla crisi. Una singolare coincidenza, ma non uno scherzo macabro. Proprio oggi, nel giorno dedicato ai defunti, si apprende la notizia che il governo sta pensando di ricavare soldi anche dai funerali. Sentiamo. Vista la data coincidente con la ricorrenza dei defunti, sembra quasi uno scherzo macabro, ma si tratta della realtà. Il governo si prepara a tassare anche i funerali. La Commissione Igiene e Sanità del Senato sta infatti esaminando una proposta che fra le altre cose prevede l'applicazione dell'IVA al 10% sui funerali, che fino ad oggi ne erano esenti, e persino il pagamento di una sorta di affitto sulla tomba, indicato come contributo annuale, che dovrebbe essere pari a circa 30 euro, destinato a finanziare la vigilanza e il controllo dei cimiteri. Il disegno di legge introduce anche l'obbligo per i comuni di destinare il 20% della tasa incassata ai cimiteri monumentali affinché possano coprire i loro costi. Ma non è tutto il decreto legge in esame. Infatti prevede anche che le imprese che organizzano più di 300 funerali l'anno, fino a mille, dovranno avere almeno tre mezzi di proprietà, sei dipendenti assunti a tempo indeterminato e un direttore tecnico, mentre quelle che organizzano più di mille funerali dovranno possedere quattro cari funebri e avere 12 dipendenti, un aspetto destinato anche questo a aumentare i costi dei funerali. Regione Liguria ricorda la figura di uno dei suoi più illustri poeti del Novecento. Si tratta di Camillo Sbarbaro e a 50 anni dalla sua scomparsa è stata organizzata un'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Mario Novaro. Sentiamo. Regione Liguria ricorda la figura di uno dei suoi più illustri poeti del Novecento. Si tratta di Camillo Sbarbaro, nato a Santa Margherita Ligure nel gennaio del 1888. A 50 anni dalla sua scomparsa è stata organizzata un'iniziativa voluta da Regione Liguria in collaborazione con la Fondazione Mario Novaro, che ha dedicato a Sbarbaro il quaderno monografico numero 84 della Riviera Ligure e un video disponibile su YouTube. Resine, Pianissimo, Trucioli, Cartoline in Franchigia, Rimanenze, Fuochi Fatui sono solo alcuni dei titoli delle sue opere poetiche che richiamano dettagli trascurati di uomini e natura e mostrano un poeta capace di trovare la vita più vera nelle manifestazioni più piccole. Sbarbaro, ispiratore anche del premio Nobel Eugenio Montale, incarna il primo e uno dei più alti esempi della poesia Ligure del Novecento. Autobiografia, dichiara, è tutto quello che ho scritto. Un medico del pronto soccorso di Imperia sta per partire per una missione di un anno in Antartide. Si tratta di Alberto Razzeto, che è stato ospite nei nostri studi. Vediamo. Dottor Razzeto, lei da medico del pronto soccorso dell'ospedale di Imperia fra pochi giorni farà le valigie per partire per l'Antartide. Una missione di un anno in una base dell'Enea, come è nata questa cosa? Perché? Per passione, per amore verso gli estremi, per amore verso i ghiacci e per fare un'esperienza diversa dal solito, dal comune. Che cosa farà in Antartide? Intanto sarà il medico della base, giusto? Esatto, faccio il medico della base, mi occuperò di tutta la logistica che riguarda l'aspetto sanitario e anche un po' di ricerca in campo scientifico. Come l'hanno presa in casa e al lavoro i colleghi, quando lei ha detto vado in Antartide? Allora, nell'ordine. In casa l'hanno presa bene, mia moglie mi ha sempre dato molto spazio e mi ha supportato. Certamente non gli mancherò per un anno, è lungo il periodo. I colleghi l'hanno presa meno bene, anche se sono molto contenti ovviamente. L'hanno presa meno bene perché mancherò per un anno e loro dovranno sostituirmi con i loro turni per quello, non per altro. Però comunque è sicuramente un fior all'occhiello, un medico d'Imperia, dell'ospedale, fra l'altro dell'Asia imperiese, selezionato perché non credo che sia da tutti poter diventare il medico di una base in Antartide. No, non credo neanche io sia da tutti, sono stato selezionato sulla base di un curriculum e poi di corsi selettivi che mi hanno permesso di accedere a questo world. C'è qualcosa che la preoccupa? No, sinceramente no. Mi preoccupa come dico sempre l'imponderabile, quello che uno non si aspetta. Però credo di essere preparato per questo genere di esperienze. Quindi sono tanti anni che lavoro al pronto soccorso. Sicuramente ho visto casi più gravi di quelli che potrei vedere al Polo Sud. No, non mi preoccupa. Forse un po' la solitudine, il fatto di mancare da casa, queste cose così. E anche vivere isolati sicuramente, chiusi in uno spazio ristretto. Certo, però sono con altre persone che secondo me hanno la stessa problematica mia e quindi si cercherà di fare Malcomune e Mezzograudio. Buon viaggio, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. È stata inaugurata ieri ad Alassio in Via Solva la fontana degli eroi dedicata a Salvo d'Acquisto e Padre Colbe, entrambi vittime dei nazisti. La struttura è stata particolarmente voluta da Marco Melgrati. Vediamo. A Solva, nell'immediato introterra di Alassio, è stata inaugurata una fontana realizzata dal padre dell'ex sindaco ed ex consigliere regionale Marco Melgrati. L'opera è dedicata ai due morti riuscisi dai nazisti. Si tratta di Padre Colbe e Salvo d'Acquisto. Maximilian Maria Colbe è stato un presbitero e francescano polacco che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato al campo di concentramento di Auschwitz. Padre Colbe non sopravvisse al campo e vi morì nel 1941. È stato beatificato nel 1971 da Papa Paolo VI, che lo chiamò Martire dell'Amore e quindi proclamato santo nel 1982 da Papa Giovanni Paolo II. Salvo d'Acquisto è stato un vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insegnito di medaglia d'oro al valore militare e alla memoria, per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 a Torre di Palidoro per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe tedesche. Salvo d'Acquisto per salvare i civili si offre al loro posto al plotone di esecuzione. Questa fontana insieme ad un'altra era una fontana che era abbandonata da tempo nel magazzino del comune. L'ex sindaco Testa aveva autorizzato mio padre a usarle per l'uso pubblico e sono state posizionate lungo la strada di cavi. Una già fatta da tempo dedicata a San Francesco, al patrono d'Italia, l'altra che è questa, era posizionata qua senza nessuna dedica particolare e mio padre ha deciso di dedicarla a questi due eroi martiri del nazismo. Uno è Padre Colbe che è diventato San Padre Colbe e l'altro è Salvo d'Acquisto che è un sotto ufficiale di Carabinieri che si è immolato al posto di dieci civili. Qui il nostro bravo Melgrati ne ha già costruite altre tre. Una dedicata a San Francesco, altre due qui nel suo territorio perché ha dimostrato la passione proprio per l'acqua, per il posto, tenendo conto che secondo lui l'acqua è vita, l'acqua è esistenza, non si vive senza acqua. Quindi quando mi ha invitato per questa benedizione ho accettato volentieri, indubbiamente poi dedicando una fontana a due persone che hanno offerto la vita e per altri credo che sia la cosa più bella, sia la cosa più efficace che possa restare più impressa, proprio come dire l'acqua che dà la vita e dà anche la forza per saper offrire la vita perché anche quello credo abbia sussidificato il suo valore. Adesso facciamo una breve pausa e restate con noi. Torna in occasione di Olio Oliva il tradizionale concorso fotografico promosso dal Circolo di Castelvecchio rivolto a scuole e fotoamatori. A parlarci nel Presidente del Circolo, Pino Camiolo. Camiolo, ancora una volta il Circolo Castelvecchio, protagonista Olio Oliva con il concorso fotografico, un appuntamento che è nella tradizione. Sì, ormai è una tradizione perché questa è la ventitresima edizione di questo concorso fotografico, sono 23 anni quindi che lo organizziamo e da un po' di anni a questa parte lo organizziamo nell'ambito di Olio Oliva, che è quello che poi ci ha fatto fare il grosso salto di qualità perché la platea, la gente che può ammirare il concorso fotografico nei tre giorni di Olio Oliva non riuscivamo ad averla in una settimana di esposizione. Anche quest'anno devo dire che Promimperia, il Galler Riviere ci è venuto veramente incontro, noi organizziamo questo concorso fotografico insieme a loro e ben volentieri, li ringraziamo veramente di cuore e questo ci ha permesso, come dico, di fare questo grande salto di qualità e a portare il nostro concorso fotografico a una platea infinita di persone. Ecco, il tema sempre legato al territorio, infatti si parla di luoghi, di prodotti, di volti di questo entroterra. Esatto, esatto, perché diciamo che il Gall si occupa soprattutto, anzi direi, di entroterra e quindi questo luoghi, prodotti e volti è anche un omaggio, diciamo, a questa collaborazione col Gall che abbiamo quest'anno. Ecco, le tempistiche, come funziona il concorso edizione 2017? Allora, le fotografie verranno esposte dal 10 al 12 novembre nell'ambito di Olio Oliva. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 9 di novembre, quindi il giorno prima. Le fotografie potranno essere ospedite al Circolo Castelvecchio, via l'Europa 7 Imperia, oppure portate presso i maggiori negozi di fotografia di tutta la provincia di Imperia, da 20 miglia a San Bartolomeo al mare. Noi abbiamo dei negozi di fotografia convenzionati, al quale potranno rivolgersi tutti coloro che vorranno partecipare a questo concorso. E allora ci vediamo agli oliva. Ci vediamo agli oliva, volevo ancora aggiungere che, come sempre, ci sono due categorie, le scuole e i fotoamatori. Noi contiamo molto sulla partecipazione delle scuole, che tutti gli anni tradizionalmente accolgono benevolmente questo concorso fotografico. Speriamo che anche quest'anno partecipino numerose. Un'ultima cosa, la premiazione avverrà domenica, domenica 12, alle ore 10.30, presso la Biblioteca Civica. In occasione della notte di Halloween, ancora una volta, Trio è stata al centro dello spettacolo. Nei carugi e nelle piazze del Paese delle Streghe, mostre e musica hanno animato la nottata. Vediamo. Ancora una volta, Trio era al Paese delle Streghe, è stato protagonista della notte di Halloween, con musica e spettacoli lungo le vie e le piazze del Borgo, per grandi e piccoli. Un fascino misterioso, al confine tra il mondo reale e quello degli spiriti, che spaventa e al tempo stesso affascina. Del resto, Trio era non può che essere la collocazione migliore per una festa dedicata ad Halloween, visto che nel Paese, tra il 1587 e il 1589, si svolse un processo ad alcune donne accusate di stregoneria e per questo di essere responsabili di pestilenze, carestia e altre atrocità. Lasciando da parte il lontano passato, Trio era offerto al pubblico una serata di musica e divertimento. Da tutta la provincia d'Imperia, ma anche da quella di Savona e dalla vicina Francia, sono arrivati a Centinaia per trascorrere la notte di Halloween a tre ora, tra mostri, musica, tarocchi e talismani. Una serata di divertimenti per grandi e piccoli. Ieri il big match tra Sanremese e Ponsacco è finito in parità con un 2-2, con la Sanremese raggiunta sul pari dopo le reti di Negro e Lauria. Ora la formazione matuziana è terza in classifica, a due punti dalla capolista Serra Rezza, il servizio. Finisce 2-2, il big match di giornata che vedeva la Sanremese impegnata sul difficile campo del Ponsacco. I bianco-azzuri si sono dimostrati abili a sfruttare le occasioni create portandosi sul doppio vantaggio nella prima frazione, ma le due reti in rimonta dei padroni di casa hanno fissato il risultato sul 2-2 finale. Dopo una prima fase di gioco, insostanziale equilibrio, è la Sanremese a portarsi in vantaggio alla prima occasione utile. Al 27esimo minuto, Negro firma l'1-0. Su punizione dalla sinistra calciata in aria da Costantini, il difensore centrale numero 23 è abile a saltare più in alto di tutti per colpire di testa Sanremese in vantaggio. Passano pochi minuti, su un'altra punizione battuta in aria, Tadei viene trattenuto, ma per l'arbitro è tutto regolare. La Sanremese si dimostra cinica e capace di sfruttare al meglio le occasioni create. Al 41esimo è Lauria a firmare il raddoppio a Matuziano, servito in aria da Costantini, uomo assist di giornata. La rete del fantasista Matuziano vale il 2-0, ma passano solo tre minuti e il Ponsacco accorcia le distanze con Canessa. Nella ripresa l'arbitro concede un rigore al Ponsacco dopo soli tre minuti di gioco. Fallo che costa anche la munizione a Tadei. Sul dischetto si presenta Gianni, che al primo tentativo si fa parare il penality da Gavellotti, ma è poi abile a ribadire in rete. Gara di nuovo in parità. Al 27esimo, grande discesa di Tadei, che una volta al limite dell'area, libera il tiro che però finisce tra le braccia del portiere. Al 36esimo, Lobosco entra in aria e prova la conclusione. Palla fuori. La gara si chiude tra le proteste dei biancazzuri, in pieno recupero per un gol annullato a negro per sospetta posizione di fuorigioco. Con il pareggio sul campo del Ponsacco, la Saremese si conferma al terzo posto in classifica, quota 20 punti, a meno due dalla capolista Seravazza Pozzi e a meno uno dal Viareggio. Adesso il momento dell'angolo di Daniele Lacorte, che oggi ci parla di compagnie telefoniche. Sentiamo. Il telefono, la tua voce. Uno dei tanti spot pubblicitari che nel corso degli ultimi anni hanno invaso televisioni, radio e web per sollecitare la scelta di questa o di quell'altra compagnia telefonica. Molteplici messaggi, anche ingannevoli, che hanno costretto l'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ad intervenire. Era il momento delle promesse su chiamate e giga inclusi anche per l'estero. Si parlò di pratiche scorrette e di piani tariffari che potevano non corrispondere al vero. Poi, e di queste settimane, la bolletta ogni 28 giorni e successivamente l'intervento del governo per evitare evidenti lievitazioni a carico degli utenti. Vi ricordate il Miami? Ma quanto Miami? Un tormentone messo in campo per evidenziare risparmi poi la discesa in campo di nomi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport e tanti altri spedienti per catturare il maggior numero di patiti del telefonino. Quelli delle chiamate compulsive e della convinzione che, cambiando da un gestore all'altro, in fondo ci sia convenienza. Non entriamo nel merito specifico del risparmio ma tra tanto Can Can, unica cosa certa è che ancora troppo spesso si devono fare i conti con le tante zone d'ombra che costellano la nostra Liguria e soprattutto la nostra riviera di Ponente meta di turisti internazionali che percorse in autostrada piuttosto che sull'Aurelia mette a rischio le comunicazioni. Tanto per fare un esempio, provate sui tre capi Mele, Mimosa e Berta oppure sulla costa Savonese per giungere a San Lorenzo al mare il mi ami quanto mi ami va a farsi benedire perché cade la linea ad ogni curva così verrebbe da gridare perché mi freghi ma quanto mi freghi. Diamo adesso uno sguardo a Riviera e Venti e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Grazie a tutti i nostri spettatori questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato in direzione Francia Carreggiata Nord tra Pietraligure e Borghetto Santo Spirito chiusura della corsia di sorpasso per installazione e barriere di sicurezza dal 6 al 10 novembre tra Imperia Ovest e Arma di Taggia chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per manutenzione viadotto Tufo dal 6 al 10 novembre tra Arma di Taggia e Sanremo chiusura della corsia di marcia o sorpasso per manutenzione giunti viadotti Cascine e Armea dal 6 al 12 novembre in direzione Genova Carreggiata Sud tra Finale Ligure e Spotorno Carreggiata Chiusa con doppio senso sulla Carreggiata Opposta per rifacimento della pavimentazione in Galleria Rocca Carpanea dal 6 al 9 novembre Vediamo adesso le previsioni meteo dei prossimi giorni domani venerdì 3 novembre fino a metà giornata possibili rovesci temporali a Levante schiarite anche ampia Ponente per l'ingresso di ventilazione settentrionale dalla serata nuovo aumento della nuvolosità con possibili piovasche a Levante umidità su valori alti venti deboli variabili al mattino tendenti a ruotare da est e sud est al pomeriggio mare mosso in graduale calo poco mosso dal tardo pomeriggio a partire da Ponente dopo domani sabato 4 novembre cielo molto nuvoloso con piogge sparse che dalla serata potranno assumere carattere di rovescio temporale a partire dal centro ponente in successivo peggioramento umidità su valori alti venti deboli dai quadranti settentrionali in rotazione da sud est al pomeriggio locali rinforzi sulle coste esposte mare inizialmente poco mosso in aumento a mosso per onda da sud est da metà pomeriggio ed è tutto per l'edizione di oggi grazie per averci seguito buona serata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito